Ciao a tutti e bentornati su Indie Game Play Ita, siamo su Steam My Inns, un gioco strategico ambientato nello spazio, orientato all'uccisione a turani di mostri e alieni. Vi faccio vedere subito di che cosa si tratta, noi ce lo giochiamo a difficoltà normale e abbiamo la nostra squadra. Io voglio fare un piccolo tributo a degli youtuber che di conseguenza hanno fatto un piccolo tributo a me. Voglio dare il leader a Musa, lo voglio dare lo scout, lo voglio far fare ai cinghiali, dal canale Cinghiali sul Tubo. Dopodiché il granatiere direi lo faccio fare al mio compagno di giochi Muffman, perché mi sembra che abbia un non so che di granatiere. E poi Mr. Delric gli faccio fare la classe Support. Allora, vediamo un attimo. No, gli faccio fare l'ingegnere. Praticamente gli faccio vedere rapidamente le classi. Ingegnere usa rapid fire e poi gli possiamo cambiare anche il perk, quindi possiamo dargli le abilità. Sweeper, laser sight, garantisce più di due danno, sì. Scout dei cinghiali sul Tubo. Garantiscono un più uno i nemici, se spottati, quindi rilevati attivamente. Mr. Delric, invece che è un Support, gli facciamo un 100% di chance a colpire sugli obiettivi adiacenti, quindi Mr. lo manderemo sempre davanti. Vediamo magari se ci sono altre classi, ve le faccio vedere. Ingegnere, Leader, no, Scout sono questi alla fine. Quindi gli faccio fare l'ingegnere e accetto la nuova missione. Missione. È stato disattivato la cariostasi, adrenalina è stata immessa nei nostri corpi, quindi noi praticamente veniamo risvegliati su questa nave. Adesso siamo qui, all'interno di questa nave e dobbiamo aprire le porte. Vi faccio vedere... Vediamo quello che stanno dicendo. Allora vi spiego brevemente l'interfaccia. Qua vediamo la vita, i colpi disponibili, lo vediamo anche qua nell'arma. Stiamo controllando adesso lui, che è... Adesso non riesco a capire... Allora... Mugia... Mugia che è il Leader, ha 14 colpi, vedete qua, 14... Scusate, 14, sì... Sì, deve avere i colpi, sì... Ok. E il numerino che vediamo sotto sono gli Action Point, quindi magari lo facciamo temporeggiare un attimo. Allora, vediamo che col tasto Shift, tenendo premuto il tasto Shift, noi possiamo farli girare in una direzione. Perdendo ovviamente un punto azione, quindi... Magari lo facciamo muovere di qua. Vedete, completa... Ok, ha trovato nuove munizioni lì. E dei crediti. Ok, noi stiamo avanzando a esplorare. Una volta che abbiamo finito, lui prende un altro giocatore. Adesso ci sono i cinghiali, che sono gli scout. Hanno forse qualche punticino in più di Mugia. Niente, passiamo il turno. Abbiamo trovato nuove armi, nuove munizioni per Muff. Dopodiché ci manca, ok, sempre lui, ma lui non può più muoversi. Quindi muoviamo Mr. Delleric, che ha solo due mosse da fare. Con l'invio noi passiamo il turno. E dopodiché muovono anche i nemici. Quindi dobbiamo cercare di... Vediamo che c'è qualcosa che forse sta arrivando qua. Ok, quando toccano il gioco ce lo dice. Allora, Mugia diciamo che si muove qua. E si gira in questa direzione. Nonostante abbiamo delle porte alle spalle, noi siamo degli incoscienti. Mandiamo avanti il nostro scout, cinghiali, che apre la porta e trova all'interno dei... dei mech. No, ma sì, dai. Mandiamo avanti l'ingegnere. Vediamo se riesce a colpire qualcuno di loro o no. Mr. no, passa il turno perché ha un po' fifa. Ok, abbiamo aperto un armadio e intanto abbiamo consumato i nostri crediti. Attenzione, vediamo i mech che cosa fanno. Però penso che se ne stiano lì, nonostante abbiano quattro punti azione. Ok, no, eccoli lì. Oh, mamma mia, hanno colpito. Ok, allora, abbiamo. Di fronte a noi, Mr. Delerick contro un mech, però diciamo che la possibilità di colpirlo è ottima perché da vicino lui fa un ottimo danno. Infatti lo uccide subito. Riusciamo a passare avanti, lo facciamo girare usando puntazione e lo facciamo sparare di nuovo. Ok, e ci porta via tutto il disturbo che avevamo. Vediamo Mugia che apre questa porta. Uh, qui c'è qualcuno che ha ucciso. Vediamo se ce la facciamo. Merda! Addio, Mugia. Ah, lui è il fucile a pompa che è molto, molto comodo. Gli facciamo dare... No, se lo facciamo girare a sinistra, finiamo l'ultimo punto azione. Bene. Allora, lui è finito. Adesso arriva in supporto anche... Cinghiali. Eh sì, ciao. Ho sperato sparasse anche in diagonale. Non ce la fa. Non ce la facciamo a colpirlo. Tuttavia... Abbiamo finito tutti i punti azione. Tocca a loro. Vediamo se qualcuno ci lascia le penne. Allora, no. Al momento... Eh, Mugia si prende i suoi danni, eh. Aia! No! Mugia ci ha già lasciato. Però adesso il nostro ingegnere Muffman... Gli dà una bella sventagliata di colpi. Allora, ragazzi... Eh... Allora, tu, cinghiali... Lo manchi da due metri! Vabbè, adesso dagli una... Ok, ottimo. E poi provvedi, dato che sei un po' a corto di colpi, a ricaricare l'arma. Perfetto. Passiamo il turno. Arriva anche il mister. Mugia, mi spiace. Io forse ho avuto maggior fortuna nella tua serie su Darkest Dungeon. Ma qui tu sei già morto. Mi spiace. Però è colpa mia. Allora. Ok. Mr. Delleric ne ha fatta una giusta. Ha spottato un nemico appena appena dietro. Quindi adesso lui, diciamo che va a... Non so dove l'abbia spottato, ma... Vabbè, lo facciamo stare lì. C'è un tasto, che non mi ricordo mai di fare, che praticamente consente di lasciare un Marine in guardia a una zona e in automatico lo fa sparare nella direzione dove i nemici arrivano. Quindi, allora, adesso, cinghiali si è vuota di qua usando puntuazione e poi spara. Quattro punizioni rimaste. Ok. Perfetto. E poi ricarichi. Allora, manca Muffman che spara da lì. Ok. Ottimo. Adesso attendiamo il movimento dei nemici. Però, adesso abbiamo ancora due porte, c'è qualcuno lì in alto. Quindi, allora, adesso, concentriamoci un attimo. Passiamo prima a Mr. Vediamo se riusciamo... a vedere come fargli fare la guardia. Allora, io non mi ricordo più il tasto, cazzo. Allora, vabbè, Mr. ha la granata, quindi direi che si potrebbe anche ipotizzare di fargliela usare, magari dopo. Allora, io non mi ricordo più il tastino per fargli mettere il guard. No, diciamo che no. Non gliela facciamo usare. Gli ho fatto usare tutto con trazione. Ok. Spara, spara, spara. Ok. Ce la fai anche tu? Merda. Mi spiace. Eh no. Ci lasciano anche i cinghiali. Sono veramente scarsi in questo gioco, devo dire, anche nelle altre partite non sono stato un gran che. Comunque, adesso vediamo un attimo di... Muff, ce la fai? Ah, lui è veramente una quantità assurda di... Ok, dai che magari... Ok. Mr. a sto punto lo facciamo muovere. Uh, una granatina. È stato bellissimo. Ah, ok. Abbiamo sterilizzato Mr. Delric. Però ha rigenerato la vita. Non so cosa sia successo. Comunque, Mr. sei tutti noi ora. Ricarichiamo l'arma. Uh, inizia a diventare paranoico. Dice, che cos'è questo rumore? Entriamo in questa zona. Merda, cos'è? Abbiamo un mech davanti a noi. Ok. Minaccia neutralizzata. Attendiamo. Mr. salvaci tu. Ok, vediamo. Ok, vabbè, stiamo qua sulla difensiva, vediamo se riesce a salvarci. Ma è normale che in tutti i film di Alien muoiano tutti. Possiamo farci simpatici anche tutto il team, ma la fine ne resta soltanto uno. E questo è Mr. Che non era il leader, tra l'altro. Quindi, va bene, dai. Allora, facciamo un po' esplorare adesso che attendiamo il suo turno. Quanti sono? Cioè, il turno è lunghissimo. Bisogna riuscire ad arrivare all'ascensore, comunque. Lo scopo di questo gameplay è farvi vedere un pochino come funziona Steam Marine, perché ne sono stato... Ah. Sta curvando la nave. Ha attivato qualcosa che non so. Comunque no, lo scopo del gioco, del gameplay è farvi vedere il gioco com'è, perché io, vi dicevo, l'ho visto tante volte su Steam, poi mi sono deciso di provarlo, ma non si capiva moltissimo dai video, dai video che hanno pubblicato gli sviluppatori. E va provato con mano. È un gioco simpatico, un gioco da non passarci magari mille ore. Però è assolutamente un gioco carino, strategico e dedicato agli appassionati dello spazio e soprattutto di Alien. Questo è molto simpatico perché il tutorial non fa altro che prenderci in giro sbeffeggiandoci sul fatto di essere riusciti a uccidere due nemici immobili in ermi e in quattro persone. Quindi, avendo uccisi due immobili in quattro, lo dà come grande il risultato e ci prende in giro per tutto il corso dell'avventura. Comunque noi, merda. Dobbiamo anche calcolare che bisogna giocare di strategia, perché noi abbiamo perso praticamente un turno, perché ora siamo girati nella direzione sbagliata. Mister, sparagli tu. Abbiamo usato la granata per uccidere Muff, quindi il risultato è buono. Ok, ne arriva un altro che finisce per punti azione, quindi non riesce a farci nulla. E adesso gli diamo una sventariata a noi di colpi, sempre che ne abbiamo disponibili. Vediamo. Ecco, ne è un altro che ha finito i punti azione, non può fare nulla ed è anche girato. Ottimo. Vedete, poi quella serie di scintille sul nemico significa che, mi sono dimenticato di dirvelo, lui lo sta puntando. Questo capita quando magari abbiamo un nemico lontano e vogliamo capire cosa sta succedendo. Mister, addio, la partita finisce qui, probabilmente. Però vediamo, magari riesce a farci sognare. Vediamo. No, lui non sta sparando nella direzione giusta adesso però. No, sta sparando là, però. Ok, forse, forse, forse ce la famo. Addio. Ha finito i colpi. Ricaricando, lui perde praticamente il turno e adesso va a morire perché ha un punto vita contro i 12 del Mech che lo sdruma e la nostra partita finisce. È stata una partita abbastanza scarsa, diciamo, non sono un gran giocatore, però diciamo che lo scopo è quanto meno riuscito perché avete visto come si svolge a grandi linee Steam Marines. Con tutte le sue specifiche e le sue, diciamo, peculiarità, la sua interfaccia grafica. Non ho trovato il tasto perché non me lo ricordo, ma sono un pirlaio. Per mettere a guardia qualcuno di una zona, però non era, diciamo, così importante in questa partita. Lo abbiamo giocato così allo sbaraglio, abbiamo perso, però, vabbè, ne abbiamo uccisi 14. Abbiamo speso 96 munizioni, abbiamo preso parecchio danno, ma noi non siamo ancora così forti per affrontare. Il passaggio di livello in questo gioco avviene tramite gli ascensori e in questa partita avremmo dovuto raggiungere un ascensore, però non siamo morti subito e in seguito dei miei errori. Gioco divertente, spero vi state divertiti con me, io molto. Ci sentiamo al prossimo video gameplay, ragazzi. Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao!